però con la cucciarella, ognuno la pacchetta, tu pigli la cucciarella lui sa la cucciarella, la cucciarella sta qua qui il canale è vero clean, si piglia una portafoglia e lei ve lo portafoglia, tu qua allora, no, la mamma mantiene così, fa il reggipiatto però senza toccare, sono insomma, vediamo oppla, è caduto non sa fare il reggipiatto, vedi che può fare la tua fine pensavo che era una botafoglia teni i capilleri, allora, quattro teni i capillerici questo lo devi fare tu, però con questa qua me lo dai questo qua, che regalo mio, grazie come è buono sta bambino allora, ripeto, io invece faccio sempre così ecco, io ho fatto quattro tu hai solo quattro, allora niente adesso teni i capillerici insieme a me brava quando alzi il dito devi fare teni i capillerici insieme meno male insieme a me la 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 ma se sono conosciuto non posso fare questo se mi viene qua il dito di mia moglie è qua mi manda direttamente all'ospedale ho trovato il ritmo e fammi sentire tutti se non fanno silenzio e io faccio così ma quando io faccio così io suono qua ma quando il nonno non fa niente da stamattina da stamattina da stamattina da stamattina allora facciamo due pacchetti questo con la mano destra il battere si deve tenere due pacchetti qua suona il tamburo fischia live love life fischia beautiful by night and day 1,2,3,4 fai una tavola qua brava e non oltre alla mano 1,2,3 qua e un'altra volta ma sa già suonare questa 2,3,4 sei la batterista è pure col pedale boom aspetta un ritmo e facciamo quattro anche al ritmo vuole andare hai capito quando hai fatto venga venga e cadiamo una canzone se no sulla batteria te 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 se viene qualcuno vi preoccupate io mi manco il giornale mi romanti questo film si mi manca approccio voi stai approccio quando mi manca hai capito i quattro faccio tutte e quattro le faccio qua i quarti insieme ripetiamo i capelli i capelli di cioticcia è maestà e devo fare bene il maestro sono io fai tu adesso io sono la maestra no io sono il maestro i maestri sono sempre maestri maestri di batteria non può essere che c'è la conna con la conna come suona la batteria maestra io sono la maestra devo andare da mia figlia che ha 13 anni e più grande le tue già sa suonare due batterie anziché un maestro suoniamo un'altra volta la batteria fai vedere queste signori signorina volete vedere come si sono la batteria fai vedere collaborate signorina signorina collaborate non potete uscire non potete uscire non potete parlare un momento aspettate seretevi sulla signorina signorina seretevi voi serete un piccolo ma io mi siedo io io sono grandi seretevi un pochettino fate il pubblico fate il pubblico un momento tenete i capelli riccericcia fare l'applauso tu seretevi capi un'altra volta cantate voi adesso tenete i capelli riccericcia siamo facendo una prova volete cantare anche voi cantate i miei faccio i microfoni insieme a me te 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 hai la